Grazie Presidente. Le tematiche che avrei potuto affrontare oggi effettivamente sono tante, questa emergenza ci sta tenendo impegnati su molteplici fronti a partire da quello sanitario, economico e tanti altri, ma è quello ambientale che sinceramente mi preoccupa di più in questa regione perché ce lo siamo detti con l'assessore anche in commissione, a soli due mesi da inizio mandato purtroppo posso dire per quanto mi riguarda che siete già partiti con il piede sbagliato. Lo dico in relazione ad alcune affermazioni pubbliche fatte dall'assessore Priolo a legislatura appena iniziata, a 20 giorni dall'insediamento, in cui la stessa commentava quello che per me, come peraltro per molti altri, era un dato rilevante da prendere in considerazione quanto prima, ovvero la possibile relazione tra inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Emersa dal position paper di Sima, la società italiana di medicina ambientale di cui fa parte un nostro ricercatore, nostro ricercatore della nostra Università di Bologna, quindi dovrebbe essere un vanto. E' stata presa però una posizione che io trovo inspiegabile, un attacco immotivato, concordato peraltro a tavolino con l'omologo leghista della Lombardia, all'interno di un comunicato nel quale sostanzialmente si è cercato di mettere un bavaglio, o quantomeno di censurare, del risultato di quel position paper, chiedendo di evitare di diffondere informazioni non sufficientemente verificate, posto che, lo abbiamo già detto, quel position paper, per sua natura era legittimo e doveroso che fosse divulgato e l'auspicio è che anche questa istituzione in qualche modo lo prendesse in considerazione. E poi è stato che oggi quegli studi hanno confermato questa relazione. Allora, io trovo anche un atteggiamento, quello tenuto dall'assessora, paradossale perché mai, come in questo periodo, la politica cerca appoggio giustamente dalla scienza, e invece noi in Emilia Romagna, una delle regioni più colpite dal virus, ci permettiamo anche il lusso di, tra virgolette, e bachettare chi ci fornisce indicazioni scientifiche utili a orientare le politiche regionali. Io spero e mi auguro che questo sia stato, lo chiamo così, un abbaglio, anche perché la scienza non si ferma davanti alle, come dire, in qualche occasione farne i canti parole della politica. Quindi le chiedo anche alla luce del fatto che viviamo nella zona più inquinata d'Europa, non solo di rivedere i propri convincimenti e il proprio approccio a questo studio, ma le chiedo cosa più importante se intende coinvolgere all'interno del gruppo dei saggi indicati da Presidente Bonacini anche esperti in materia ambientale, in campo ambientale in genere, ed in particolare gli estensori del position paper citato in premessa, anche nella ridefinizione radicale delle strategie di sviluppo e di promozione della qualità dell'aria e del nostro ambiente, che siano coerenti con la più volte annunciata svolta green. In questo senso chiedo se intende incentivare, in accordo ovviamente anche con l'assessorato competente, la mobilità e la micromobilità elettrica, penso per esempio ai monopattini elettrici, che hanno anche il vantaggio in questa fase di garantire spostamenti in sicurezza attraverso lo stanziamento di apposite risorse. Grazie consigliera, passo la parola all'assessore Priolo per la risposta. Prego assessore. L'obiettivo che noi ci stiamo ponendo con lo studio che abbiamo affidato non è quello di indagare il ruolo delle PM10 come carrier, quindi come vettore del Covid-19, come invece ha descritto il position paper di Sima di cui la consigliera parla. Lo scopo nostro è quello di verificare sperimentalmente la capacità di abbattimento della concentrazione di inquinanti per effetto delle misure di lockdown e quindi da questo punto di vista programmare la fase 3 per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna in un'ottica di semplificazione e di misurazione delle nostre azioni e dell'efficacia delle nostre azioni. Per quanto riguarda il tema invece della mobilità sostenibile, sta per uscire un bando che ho redatto insieme al collega Corsini proprio per incentivare anche la micromobilità e credo che sarà la prima volta che la regione Emilia-Romagna darà l'opportunità per il tramite dei comuni e quindi per il tramite delle risorse stanziate di poter acquistare anche i monopattini. Sono convinta come la consigliera che questo sia importante per cui andremo in questa direzione ma non solo in questa direzione, ci sarà un bando complessivo su tutti gli aspetti della fase 2 e della fase 3 in cui gli spostamenti casa lavoro in bicicletta saranno molto importanti e incentivati. Però sia la consigliera vorrei fornire della documentazione che la possa aiutare per comprendere che non c'è una contrapposizione ma ci sono studi complementari che non hanno gli stessi obiettivi. Grazie Assessore. Consigliere Piccinini per la replica. Sì, grazie Presidente. Io sono diciamo parzialmente soddisfatta. Condivido anch'io che non ci sia una contrapposizione, però la contrapposizione non la sto cercando io, l'avete cercata voi nei momenti in cui siete usciti con quel comunicato. Io penso che quei due studi non siano in contrapposizione, assolutamente. Non ho francamente capito alla fine se al tavolo ci saranno anche esperti ambientali che non devono essere per forza i ricercatori di sì, ma può essere chiunque altro. Non ho capito se effettivamente allargherete il tavolo. Sul position paper mi permetto di dire che quella correlazione è stata alla fine dimostrata. Quindi diciamo le mie frasi ipotetiche all'interno del question time precedevano poi alcuni articoli che sono usciti proprio recentissimamente. Quindi una soddisfazione a metà bene per il bando che deve uscire sulla micromobilità, però come dicevo appunto ad un mese di distanza da quello studio, dobbiamo anche dirci che l'RNA del SARS-CoV-2 sul particolato è stato trovato. Allora questo che cosa può significare? Lo dico in maniera anche molto grossolana, ma ad alte concentrazioni di PM le micro goccioline infettanti si legano con il particolato e quindi aumentano la persistenza del virus nell'aria e nell'atmosfera. Questo apre intanto alla possibilità di testare la presenza del virus sul particolato nelle nostre città e può anche essere un indicatore per rilevare in anticipo le eventuali future possibili purtroppo recidive, ma è anche dovere di chi amministra la nostra salute e il nostro ambiente mettere in campo tutte le misure possibili per mantenere basse le emissioni se non vogliamo appunto rischiare di favorire una nuova diffusione del virus, unita al fatto che io credo che in via cautelativa sia bene tenere le mascherine appunto anche quando siamo all'aperto. Quindi serve un'assunzione di responsabilità, bisogna agire adesso perché davvero non è consolante dire poi vi era stato detto o ve l'avevamo detto e quando verrà dimostrato che il particolato ha avuto anche la funzione di velocizzare i contagi e soprattutto quando interremo davvero nella fase 2 dovremo già noi insomma come istituzione aver già adottato le contromisure e purtroppo siamo già in ritardo. Comunque adesso attenderò anche i documenti per fare un approfondimento più preciso. Grazie comunque per la risposta.